Oggi parliamo del ritorno della house. Ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Il ritorno della house, oh finalmente! Era l'ora, non ne vedevamo il momento e siamo tutti contenti. Beh mi dispiace deluderti ma non è proprio così. Ogni volta che esce un disco di successo con sonorità hauseggianti, diciamo così, in maniera volutamente approssimativa, ecco che qualcuno grida al ritorno della house. In realtà non c'è nessun ritorno della house e lo dico fin da subito. Prima di tutto perché c'è un disco spot ogni tanto. Ora c'è stato Medusa, Piso BioCart e ne abbiamo parlato. C'è stato Fischer, c'è stato Cola e tutto ciò che è venuto prima. Per ognuno di questi dischi non c'è mai stato granché intorno. Semplicemente qualche brano qua e là. Difficilmente anche collocabile nelle serate perché se diventa di successo allora finisce nelle serate mainstream, chiamiamole con il loro nome. Quindi devi trovare dei dischi altrettanto di successo e se arriva a quel punto esce dal circuito di serate underground. La house purtroppo è da sempre stretta tra l'incudine e il martello, da un lato la techno e da un lato le cose più generaliste tipo la dance in tutte le sue forme. Quello che è successo negli anni è che questa via di mezzo è sempre stata più schiacciata da ciò che gli sta intorno e di conseguenza c'è un'intera generazione di persone che la house non l'ha mai sentita e non sa neanche cos'è. Quando mio fratello che ha 18 anni mi ha chiesto ma cos'è la house e io ho cercato balbettando di dargli qualche riferimento è stato veramente un bagno di sangue perché tutta la generazione di chi ha fino a 20 anche 25 anni attualmente non ha mai ascoltato un disco house, non lo ascolta e ci si imbatte solo se ci si appassiona al genere, cosa che può comunque succedere. Di conseguenza per un'intera generazione l'house semplicemente non esiste. L'house non esiste perché non ci sono serate dedicate, almeno nel nostro paese, ma la situazione è triste un po' ovunque facendo un giro per l'Europa. Non esistono club house, non esistono più purtroppo. Se pensa a quello che è successo nella Rivera Romagnola con la Villa delle Rose... Non ce la faccio, pensare alla Villa delle Rose fa la serata reggaeton proprio. Comunque un'intera serie di locali che non riesce più ad andare avanti con quella che era la sua connotazione storica ed è costretta a fare serate generaliste oppure buttarsi su la tecno nelle sue varie forme. Non esistono i festival house, non c'è niente collocabile in questo universo. Di conseguenza il ritorno dell'house è ben lontano. Purtroppo ci piacerebbe che questo ritorno fosse lì, fosse già in atto, fosse imminente. Ogni volta che c'è qualcosa che ci dà un minimo segnale da questo punto di vista siamo contenti. Ma in realtà è soltanto, si tratta soltanto di eccezioni che confermano la regola. Perché manca proprio una cultura della house ed è difficilmente può formarsi in questo contesto. Mi viene in mente un vecchio tweet di copyright che tra l'altro hanno anche smesso di suonare quindi è veramente datato. Commentando la DJ Mag di qualche anno fa dicevano data la scomparsa di tutti i vari grandi nomi della house, dalla classifica dei DJ più conosciuti al mondo, dicevano la house è tornata lì dove gli appartiene, nell'underground. È lì che può ripartire un ecosistema di musica house. Purtroppo soprattutto nel nostro paese si è creata una via di mezzo che è molto difficile da sostenere anche. Perché chi è il tipico ascoltatore della house? La house è diventata un genere da fighetti, da tavolari, da persone che non hanno niente a che vedere con il club, allontanati dai clubber, volevano essere un po' più fighi di quelli che vanno ad ascoltare la musica in discoteca. Alla fine sono rimasti pochi e indistinguibili e di conseguenza incapaci di attrarre gli interessi di imprenditori o quant'altro. I grandi nomi, i grandi DJ si sono spostati nelle nicchie più fruttuose oppure ci sono tutta una serie di eventi cosiddetti revival con i nomi storici, le leggende della musica house. I primi DJ di musica house hanno iniziato nei primissimi anni 80, quindi si parla di quasi 40 anni fa. Chi è che va a sentire Marshall Jefferson, Frankie Knuckles quando era in vita, tutti quelli della primissima generazione, Lee Lewis eccetera? Molto spesso non riescono ad attrarre dei giovani e allora c'è un revival di persone che ascoltano house e ballano house da più di 20 anni, con il risultato che tutti gli anni ne sono sempre meno. Chi è morto, chi è stato arrestato, chi si è sposato o smesso di andare a ballare, chi non ha più voglia e così via. Ci ritroviamo tutti gli anni a guardarci negli occhi e più o meno ci conosciamo tutti e a contare quelli che vengono a mancare in tutti i sensi. Ora al di là della battuta c'è tutta una serie di serate e di eventi di questo tipo, soprattutto in Inghilterra mi viene in mente. C'è tutto un filone francese nel quale la house si mischia l'elettronica e continua ad avere un suo seguito. Nel nostro paese purtroppo siamo soltanto sfiorati da queste dinamiche e allora non possiamo che stare aspettare. Noi, io mi ci metto in prima persona, appassionati di musica house, dobbiamo ripartire dall'underground, dalla nicchia, dal piccolo club, dalla piccola situazione che poi comunque sappiamo che le tendenze sono cicliche e allora arriverà prima o poi il momento in cui la house tornerà in qualche modo ad essere interessante e degna di nota anche per un pubblico più vasto. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi su Essere DJ Oggi.